Benvenuti al vostro Zcastle, bentornati alle video recensioni di Il Trono del Re Suriga Nerd. Come prima cosa, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, bla bla bla, la formula la sapete, dai, così ricevete tutte quante le notifiche. Allora, il fumetto di cui vi parlo oggi è BUDSKILL di Donny Cates, Mark Raznicek e Jeff Shaw, edito da Side Press, BOOM! Allora, BUDSKILL è la prima miniserie affidata da Dark Horse Comics a Donny Cates. Nel 2014, poi come è accaduto anche per The Ghost Fleet, la serie è stata raccolta in volume, pubblicata da Image Comics, che tuttora ne detiene i diritti. L'Italia è arrivata grazie a Saldapress, che sta catalizzando un po' la maggior parte dei titoli del nostro texano, preferito al di fuori di Marvel. Donny Cates è uno di quelli che ha saputo conquistarsi uno spazio notevole nel comicdom americano, grazie ad un talento genuino, anche se caratterizzato da trucchetti narrativi un po' ripetitivi, anche se efficaci, e una personalità assolutamente fuori scala. Si è sposato a Luca Comics 2019, tanto per ricordarvelo, io c'ero. Ha quell'atteggiamento e carisma tipici da rockstar, pur rimanendo un impareggiabile nerd, dotato di una conoscenza assolutamente profondissima dell'universo Marvel, ad esempio delle sue continuity, tanto da aver elevato le formule del mashup e del what if in modi veramente eccellenti. Basti pensare che ha reso Frank Castle il nuovo Cosmic Ghost Rider, o che ha reso Thor Araldo di Galactus, ristabilito l'onore dei simbionti con il suo ciclo di Venom. Se è stato oggettivamente bravissimo in casa Marvel, però è sulle opere creator-owned che il nostro Donny Cates riesce sempre a catturare la mia attenzione. È un po' singolare in effetti che Budskill, che è da sua prima miniserie, arrivi solo oggi in Italia dopo gli ottimi Redneck, God Country o magari anche Baby Teeth, ma tranquilli che ne stanno arrivare parecchi altri, tra cui Paybacks, Crossover, eccetera. Allora, Budskill racconta di un ragazzo che si fa chiamare Ruben, non è il suo vero nome, ma che inizia, seppur luttante, un percorso di disintossicazione. È un alcolista e un tossico dipendente, ma la faccenda è decisivamente più complessa, perché la sua biologia gli permette di sviluppare dei superpoteri incredibili grazie all'assunzione di sostanze psicoattive, quindi persino la caffeina gli fa sviluppare dei sensi iper sviluppati. Ma dopo un combattimento che lo ha portato praticamente al limite estremo è sfinito. Ha perso la ragazza che amava, è stato cacciato al supergruppo di cui faceva parte, con tutti i omaggi e parodi agli eroi Marvel e DC, ed è perso in un oblio di infinita assoluta tristezza. Fino al momento in cui un misterioso individuo, una sorta di Doctor Strange molto freak, il Dottor Black, gli propone di fargli da sponsor e di accompagnarlo nella sua riabilitazione. Ma se ad un certo punto la sua vita fosse in pericolo e fossero necessari dei superpoteri per salvarla? O peggio, se fosse la vita della ragazza che ama ad essere in pericolo e quella di tutta la città? Qual è il confine tra il volersi disintossicare e affrontare i propri demoni ed essere un eroe? Donny Cates, insieme a Mark Reznicek, apre il cassetto delle proprie esperienze personali, anche tristi, anche difficili, e scrive una storia breve ma intensa, sentita, originale nel soggetto e molto ben caratterizzata. Perché gli eroi con problemi di alcolismo, abuso di sostanze, ne abbiamo letti tanti, basti pensare al Demone nella bottiglia di Iron Man, o al film Hancock con Will Smith ancora, ma di eroi che traggono i propri poteri dall'abuso di sostanze o di alcol, beh, come capita spesso di dire con Donny Cates, cazzo è una bella trovata. Il fumetto è sofferto, si percepisce, si intuisce che c'è del vissuto reale dietro ai dialoghi, alle scene, e il dilemma tra cosa una persona vorrebbe fare e cosa invece è costretto a fare si fa decisamente interessante. Anche lo stesso concetto di sacrificio è importante, visto che ad un certo punto il nostro eroe si troverà di fronte ad un villain, il villain definitivo che metterà alle strette il protagonista. Non voglio svelarvi, nel nome normale, vero, nel nome da supereroe. E poi c'è Jeff Shaw, ragazzi, ha i disegni, che è una dannata macchina da guerra. Il disegnatore che poi farà coppia con Donny Cates tante tante altre volte, con God Country, Thanos vince, crossover, paybacks, è decisamente in gamba. Linee graffiate, volti originali, belle inquadrature, dinamismo soprattutto. I combattimenti, le scene violente, sono rese alla perfezione da Shaw, che dimostra un talento davvero notevole, codivato anche dai colori di Laura Neffi. Anche i momenti più sereni, e ce ne sono pochi a dire vero, sanno trovare il giusto equilibrio nell'interessante stile di Jeff Shaw. Batskill è una bella storia, intensa, emozionante, una maniera alternativa di concepire l'universo dei supereroi e i sacrifici di questi eroi in calzamaglia. È una storia matura e personale. Dura poco, è come una candela che brucia il contrario più velocemente. Questo potrebbe essere normalmente un peccato, però se ci pensiamo è esattamente la metafora perfetta di quella che è la vita del protagonista, costretto a distruggersi per poter salvare il mondo e anche la sua anima. Ottima edizione cartonata da parte di Saldapress, costa 19,90€ e per me assolutamente è da prendere senza ombra di dubbio. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, lasciate un bel po' di commenti, condividetelo con i vostri amici, fatecelo sapere anche le vostre opinioni su Lega Nerd Social Club, attivate le notifiche e noi ci vediamo alla prossima videoricensione. Ciao da Zedcasto, yeah!